Voglio vivere così Ricominciamo la nostra passeggiata con Adriano Morabito Partiamo da Porta San Sebastiano, Adriano Anticamente Porta Appia Porta San Sebastiano lo diventa nel momento in cui è la strada che i pellegrini percorrono per arrivare alle catacombe omonime che incontreremo lungo la nostra passeggiata La porta si apre su quelle che sono le mura aureliane Nel 270 circa a Roma che aveva in qualche modo delle mura naturali nelle Alpi e l'impero era appunto estesissimo per la prima volta le Alpi vengono superate dagli Alemanni che giungono quindi fino a Piacenza prima di essere spinti ci si rende conto quindi che forse anche la città ha bisogno di nuove mura perché le vecchie mura, quelle repubblicane, quelle serviane ormai non erano più in funzione e comunque racchiudevano solamente una piccola parte della città e quindi vengono realizzate quest'opera ciclopica e quindi Aureliano non ha timore di affrontare queste anche spese enorme e vengono disegnate e poi realizzate delle mura lunghe più di 18 km chiaramente su queste mura c'erano poi delle aperture delle porte le mura all'epoca non erano molto alte erano alte più o meno 6 metri e spesse 350 ogni 30 metri c'erano delle torri a pianta quadrata che in effetti ripercorrendo le mura possiamo rivedere in molti punti non era quindi una difesa particolarmente insormontabile era anche abbastanza modesta la forza era nel esercito che invece le presidiava quindi delle truppe molto numerose e organizzate che si potevano anche muovere velocemente lungo le mura poi man mano le minacce divennero sempre maggiori e in vari momenti vari imperatori decisero di porre mano alle mura e alzarle anche Massenzio stesso e poi lo incontreremo anche più tardi questa personalità quindi in corrispondenza delle vie principali si creano delle porte e siccome le strade erano in quel tratto fuori della cerchia diciamo urbana erano chiaramente contornate da tombe e quindi anche la zona dove poi si decide di far passare le mura e quindi di costruire le porte ecco che alcune tombe vengono inglobate all'interno delle porte stesse e anche di porta appia la genesi della porta è molto complessa perché molti rimisero mano alla porta e quindi ci sono cinque fasi distinte quindi le torri assumono delle forme diverse passano da quadrate a circolari e quindi subisce molte molte modifiche c'erano delle ragioni militari per questa modifica? beh perché cambiavano anche le tecniche militari e quindi sicuramente da questo punto di vista ci si rendeva conto che magari una torre semicircolare era migliore delle torri quadrate che erano quelle che invece costruivano i romani riguardava quindi l'efficienza? eh sì sicuramente quindi la cosa interessante della porta è che passando al di sotto dell'arco noi troviamo delle incisioni e una soprattutto molto bella è quella che rappresenta l'arcangelo Michele che uccide il drago quindi questa bellissima graffito in qualche modo e che si trova sulla destra per chi esce dove c'è scritto che nell'anno 1327 entrò gente straniera nella città e fu sconfitta dal popolo romano era in effetti l'attacco che il re di Napoli Roberto D'Angio provò a fare alla città di Roma nel momento in cui il Papa era nell'esilio avignonese per dare un'idea anche della potenzialità bellica che veniva poi raggiunta che venne raggiunta da questa grande opera difensiva nel 300 pensiamo che le enormi balestre di cui era fornita riuscivano a inchiodare a un albero un uomo in corazza a una distanza di 400 metri e le catapulte per il lancio di pietro di bombe incendiarie raggiungevano una distanza di 300 metri quindi era sicuramente un punto da cui ci si riusciva a ben difendere da eventuali assalitori chiaro, assolutamente senti Adriano ma le porte di cui stiamo parlando sono visitabili all'interno? erano abitabili tutte? perché sappiamo che la porta di San Sebastiano in questo caso sì sì, allora ad oggi la porta San Sebastiano ha all'interno un museo che è il museo delle mura perché tra l'altro ovviamente dalle porte poi si accedeva ai camminamenti e una parte di questo camminamento è anche percorribile dall'interno del museo quello a cui ti riferisci è forse il fatto che dal 1941 al 43 quindi alla fine del periodo fascista divennero i locali superiori della porta studio e abitazione di Ettore Muti che era il segretario del partito fascista esatto e poi a questo è legato un evento insomma particolare ovviamente della fine di un regime di un ventennio per cui nel momento in cui poi Ettore Muti fu ucciso i locali che erano da lui abitati furono saccheggiati dalle persone che ovviamente erano a questo punto un po' in rivolta Sì, la notizia ancora non si era diffusa al meglio rispetto a quello che abbiamo letto e studiato sui libri di storia ma già le persone avevano saputo evidentemente in altri modi di questa uccisione e quindi hanno cominciato ad entrare all'interno della porta dell'abitazione di Ettore Muti a saccheggiare effettivamente tutto ciò che vi era contenuto noi stiamo continuando la passeggiata e arriviamo al vicino a una colonna importante Sì, passiamo quindi la porta e siamo fuori finalmente fuori dalle mura e in questo punto troviamo la colonna del primo miglio perché qui? perché la via Appia iniziava in effetti da Porta Capena quindi dal Circo Massimo ed ecco che il primo miglio i primi 1400 metri erano già stati percorsi colonna del primo miglio che oggi si trova in Campidoglio sulla balostrata insieme a quella del Sesto Miglio quindi quella che noi vediamo percorrendo la Piantica è in effetti una copia poco più avanti diciamo purtroppo le esigenze del trasporto moderno hanno portato a costruire un cavalcavia anzi in effetti sono due in cui passa da una parte la ferrovia Roma-Pisa e poi passa la via Cilicia strada trafficatissima anche questa che appunto in quel punto scavalca la Piantica quando si fece i lavori di sbancamento ai lati della strada anche qui ma non ce ne stupiamo si trovano dei masolei e dei colombari ovviamente poco dopo sulla sinistra quasi subito dopo i due cavalcavia si trova un piccolo edificio di color rosa più o meno e che cosa serviva? era il servizio d'azziario perché comunque qua ancora diciamo fino al periodo del papato chi entrava a Roma doveva dichiarare delle merci e doveva pagare su questo delle eventuali imposte e questo era il vecchio edificio d'azziario oggi come oggi è una sede distaccata operativa dell'AMA però è ancora lì come cambiano i tempi esatto ed ha comunque una forma molto graziosa è molto carina di fronte al servizio d'azziario c'è via della travicella via della travicella è in realtà una corruzione di via della traversella quindi una piccola traversa che raggiungeva Porta San Paolo percorrendo in qualche modo una strada parallela quasi alle mura quindi da qui si andava verso ovest e raggiungeva Porta San Paolo facciamo ancora qualche passo e arriviamo a scorgere le acque di un fiume molto importante per Roma arriviamo a scorgere le acque dell'Almone e prima di questo però mi permetto di dire che al numero 26 c'è la sede di Roma Sotterranea come lo sappiamo lo sappiamo bene lo sappiamo però è una sede che per l'altro si trova all'interno di un edificio antico comunque che probabilmente era anche in passato comunque un sepolcro romano sul quale poi si è innestato questo edificio un edificio di campagna del Settecento e qui c'è la nostra sede per cui se volete venireci a trovare il giovedì sera dalle 9 siamo tutti giovedì lì e facciamo la nostra riunione operativa per le attività che svolgiamo normalmente andando avanti arriviamo appunto come dicevi tu all'Almone l'Almone è questo fiume che oggi vediamo un pochettino riusciamo a scorgere fra le canne ma che riforniva una cartiera che si trovava proprio lì sull'altro lato quella in realtà è la sede del parco della Piantica quindi la cartiera è stata anche risistemata ed oggi è anche uno spazio espositivo ed è molto piacevole da visitare ecco le acque di questo fiume dell'Almone che era considerato un fiume sacro venivano utilizzate per un ruolo particolare sì i sacerdoti di Cibele e quindi la Magna Mater ci lavavano la pietra nera che era il lapis questa pietra particolare che si diceva magica perché è caduta dal cielo forse era un meteorite e addirittura proveniva dalla Turchia e quindi era ritorniamo sempre a quelli che erano dei culti veramente primitivi nell'antica Roma andando oltre stiamo entrando in quella che è la zona detta della Caffarella appunto dai Caffarelli dalla famiglia Caffarelli molto bene noi tra pochissimo allora entreremo in questa zona perché ci fermiamo per pochissimi istanti e poi torniamo su Radio Yes con Voglio Vivere Così Voglio Vivere Così continuiamo la nostra passeggiata stiamo per entrare in una zona molto famosa di cui però magari non conosciamo l'origine beh la zona della Caffarella appunto deve il suo nome ai Caffarelli che erano una delle tante famiglie che aveva dei grandi possedimenti nelle zone di campagna della campagna romana e nel Cinquecento questa zona era detta la Valle Marmorea Valle Smarmorea perché? perché proprio la presenza di tutte queste numerose tombe manufatti romani vennero costantemente distrutti o spogliati di tutti quelli che erano appunto marmi o altre potevano essere anche parti di mosaico che per riutilizzarle in altri luoghi ecco che che casa rimane rimane molto poco rimane la chiesa di Sant'Urbano all'interno di una proprietà privata ma rimane appunto era in realtà un tempietto che appunto oggi è la chiesa di Sant'Urbano e è arrivata a noi solo perché è stata a un certo punto tramutata e modificata in chiesa poi esiste anche lungo sempre la zona della Caffarella il cosiddetto sepolcro del Dio Redicolo e poi il Linfeo di Egeria che è una fonte da cui ancora oggi sgorga dell'acqua ecco continuando ad andare avanti c'è un sepolcro attribuito a Geta ma non so se c'è qualche fondamento riguardo a questo no il sepolcro cosiddetto di Geta in realtà fa parte sempre di quella che è un po' la leggenda che porta ad abbinare nomi a dei monumenti quando di questi monumenti non si sa in effetti che fosse l'origine la cosa molto divertente di questo piccolo sepolcro è che al di sopra c'è una piccolissima costruzione casetta risalente al Cinquecento è un edificio molto particolare che troviamo sulla sinistra percorrendo appunto Lappia venendo da Roma ed è un luogo molto particolare la zona della Caffarella era una zona agricola esistono anche fotografie fino ad ottocento inizio novecento in cui la zona è coltivata a grano ma lì veniva anche coltivato il tabacco e infatti un grosso edificio che abbiamo sulla sinistra molto alto senza finestre era l'ex essiccatorio tabacchi lì dentro le foglie venivano messe ad essiccare ed asciugare beh carina questa cosa anche perché non ci aspettavamo forse una pratica del genere sì per il tabacco noi pensiamo sempre a zone un po' più a posti più esotici magari o tropicali ok ma insomma il tabacco si coltivava e si coltiva ancora in alcune zone anche in Italia esatto ma stiamo per entrare in un borghetto detto propriamente che si incontra subito dopo la presenza di un aspetto caratteristico che possiamo attribuire a questo sito sì allora è composto da poche case un pugno di case addirittura lì i più anziani ricorderanno che c'era una stazione di servizio insomma una pompa di benzina che oggi ovviamente non c'è più perché insomma il posto non si presta e questo piccolo borghetto nasce in un punto particolare uno snodo perché è il punto in cui l'appia va leggermente a sinistra e l'ardiatina invece va verso destra quindi è questa biforcazione della strada e quindi è composta di tutto quello che in effetti un luogo un piccolo borgo deve avere e c'è una piccola chiesa che è la famosissima chiesa del Domine Covadis che in realtà si chiama Santa Maria in Palmes e poi anche quello che era una torre medievale appunto di controllo della zona che si era installata al di sopra del sepolcro di Priscilla la chiesetta del Domine Covadis è famosa perché è legata a un evento particolare che è la fuga di Pietro da Roma in quel punto la leggenda dice che lui incontra Gesù il quale gli dice che invece va verso Roma e quindi Pietro chiede a Gesù dove sta andando e Gesù dice vado a farmi crocifiggere di nuovo il messaggio è chiaro per Pietro perché lui capisce di essere in colpa per non essere per non aver subito diciamo in qualche modo affrontato il martirio e per invece aver cercato di scappare ecco che a questo punto Pietro decide di fare marcia indietro e di ritornare verso Roma qui all'interno c'è la copia di una lastra di marmo con impronta di due piedi in realtà un ex voto pagano per la buona riuscita di un viaggio che la tradizione e la devozione popolare invece attribuiva appunto a Gesù quindi erano i piedi di Gesù in effetti l'originale è conservato nella basilica di San Sebastiano poco più avanti e quella che vediamo lì è solamente una copia dall'altra parte della strada appunto sulla destra abbiamo il sepolcro di Priscilla una tomba quindi con un grandioso basamento quadrangolare in calcestruzzo e poi rivestito di blocchi di travertino quindi un classico sepolcro con una cella sepolcrata all'interno sulla quale nel Medioevo si installò invece una torre medievale pensiamo che l'appia diveniva nel Medioevo un luogo di passaggio anche di collegamento per alcune famiglie molto nobili verso le loro proprietà magari nella zona sud di Roma ma non controllata nel Medioevo c'erano briganti c'era di tutto poteva accadere lungo la strada ecco che queste famiglie creavano dei punti di controllo con delle piccole borghetti fortificati dove si poteva quindi essere diciamo più o meno seguiti nel caso in cui dovessero accadere qualche evento spiacevole infatti successivamente il sepolcro è stato sovrapposto da una torre esatto c'è stata una torre e poi alla fine della sua vita in effetti la povera camera sepolcrale fu usata come caciara e cioè come luogo dove venivano prodotti e messi a stagionare i formaggi quindi dove venivano messi i caci ecco abbiamo raccontato già l'altra volta questo aneddoto carino dell'origine della parola prettamente romanesca caciara ecco ma Priscilla era la moglie di Tito Flavio a Bascanto che era a sua volta un liberto di Domiziano quindi ricordiamo questa pratica di da parte dei liberti di acquistare dei terreni o comunque di utilizzare i terreni che gli venivano donati per ergere dei monumenti alla propria famiglia oppure non so a un personaggio in particolare sì ma in questo caso come in tanti altri appunto ricordiamo i liberti erano degli schiavi liberati esatto e molto spesso provenivano da erano schiavi di imperatori o comunque di personaggi molto famosi e influenti ed erano anche persone molto colte spesso proprio perché se si trovavano al come dire al servizio di personaggi così importanti erano sicuramente persone colte che magari arrivavano dalla Grecia o da altre zone dell'impero e queste persone nel momento in cui venivano liberate assumevano tutti i diritti degli altri cittadini romani e quindi potevano anche diventare persone molto ricche in questo caso il sepolcro è il sepolcro solamente dedicato a una persona quindi sicuramente questa famiglia deve essere una famiglia comunque benestante chiaro noi tra pochissimo parleremo di un'altra un altro sito che caratterizza la via Appia parleremo delle catacombe partiremo da quelle di San Callisto arriveremo a quelle di San Sebastiano ma tutto questo tra pochi secondi perché state con noi dopo una brevissima pausa voglio vivere così ancora su Radio Yes stiamo per parlare di un sito particolarissimo che caratterizza una zona della nostra città quindi stiamo ancora passeggiando sulla via Appia la regina via Arum come siamo soliti chiamarla e parliamo delle catacombe di San Sebastiano Adriano sì dalle catacombe di San Sebastiano deriva il nome proprio catacombe in effetti quella era una zona dove si estraeva della pozzolana tufo e pozzolana queste gallerie quindi realizzate per l'estrazione del materiale diventano a un certo punto luogo di sepoltura in questo caso soprattutto per quanto riguarda le catacombe di San Sebastiano c'era proprio un vero e proprio burrone quindi c'era una specie di apertura una vera cava a cielo aperto e da lì partono le sepolture che queste sepolture cristiane le catacombe quindi derivano dal termine ad catacumbas che vuol dire presso le cavità la cosa particolare è che le catacombe di San Sebastiano furono una delle poche a rimanere accessibili per tutto il medioevo e quindi probabilmente proprio per questo motivo il termine catacomba fu poi esteso a tutti gli altri cimiteri cristiani sotterranei simili uno di questi è quello che abbiamo incontrato subito prima in effetti percorrendo l'appia cioè le catacombe di San Callisto in questo caso è possiamo definirlo invece questo il più vasto complesso cimiteriale sotterraneo di Roma sono 12.000 metri quadri e 16 chilometri di gallerie almeno quelle scoperte fra l'altro queste catacombe hanno tutte uno sviluppo più o meno uguale cioè sono divise in regiones che sono zone diverse che si sviluppano in momenti diversi e sono anche sicuramente dei luoghi comunque affascinanti perché queste strutture erano anche su diversi livelli quindi immaginate che cosa può aver significato questo per i primi esploratori di questi ambienti sotterranei per degli speleologi antelitteram urbani che si andavano a perdere all'interno di queste catacombe sicuramente quando si vanno a visitare le catacombe di San Callisto come quelle di San Sebastiano quello che noi oggi possiamo vedere è una minima parte in alcuni di questi posti sono esposte delle grandi planimetrie dove vediamo l'estensione incredibile è chiaro che per motivi di sicurezza di manutenzione la visita poi viene ristretta a una piccola parte immaginiamo dove percorrere 16 chilometri in questi cunicoli sotterranei una cosa particolare delle catacombe che forse non molti sanno è che le catacombe venivano scavate i loculi laterali venivano scavati dall'alto verso il basso quindi immaginiamo che se esisteva una piccola galleria e a un certo punto sia diciamo su ambe due lati i loculi erano stati realizzati fino al pavimento l'unico modo per ampliarlo senza estendere troppo la catacomba era quello di scavare il pavimento e quindi di abbassarsi di livello abbassandosi di livello si creava altro spazio laterale per creare altri loculi quindi in una catacomba quasi sempre così i loculi più antichi sono quelli più in alto e quelli invece più recenti sono quelli nella parte bassa della galleria questa è una curiosità molto interessante sicuramente molti dei nostri ascoltatori non conoscevano esatto questa è una particolarità la particolarità anche delle catacombe di San Callisto è che sono state realizzate da un personaggio che era un banchiere e che a un certo punto cambia come dire la sua linea di condotta e diventa quindi diacono e poi addirittura diventa papa e all'interno delle catacombe di San Callisto sono sepolti ben nove papi diciamo nove papi successori ovviamente di Callisto a questo punto ritornando al discorso di San Sebastiano San Sebastiano è un altro piccolo mondo sotterraneo abbiamo detto qui si cominciò a seppellire dall'età di Vespasiano non solo in tombe isolate ma anche in colombari lungo un viottolo e man mano mediante riporti di terra si creò una piazzola di tre metri più in alto e attorno a varie altezze si costituirono varie tombe alcune bellissime con delle decorazioni molto belle che ancora oggi possiamo vedere c'è una specie di piazzetta in qualche modo poi solo successivamente si arrivò a creare invece la struttura che noi oggi possiamo vedere al di sopra che è appunto la chiesa stessa che quindi giunge ovviamente molto dopo le sono meno estese perché sono solamente diciamo estese solamente 12 chilometri ma sono forse sicuramente le catacombe più visitate di Roma proprio perché rappresentano la prima struttura del genere che fu realizzata a Roma ma come facciamo a sapere che fosse la prima? beh ci sono comunque delle datazioni dovute alle epigrafi che troviamo a chiusura delle varie nicchie dove all'interno venivano posti i corpi fra l'altro la grande differenza rispetto ai colombari a situazioni del genere che abbiamo visto prima è che i cristiani inumavano i corpi quindi il corpo veniva posto diciamo così come era non veniva bruciato e questo chiaramente creava dei problemi di spazio e quindi le catacombe diventano dei luoghi estesissimi tra l'altro c'era anche un discorso legato a costi comunque siccome si pagava per delle strutture fuoriterra e non si pagava per le strutture invece sotterranee era un modo anche per non dover pagare cifre alte perché poi tutto quello che si doveva pagare era solamente la parte la parte che era fuoriterra e quindi le catacombe non pagavano nessun tipo di di gabella o di diritto all'imperatore ah ecco vedi questi sono sempre così attuali i nostri avi eh sì notiamo sempre questa cosa abbiamo da aggiungere dei particolari dei racconti delle leddoti a questo argomento ma io direi che possiamo procedere nella nostra passeggiata sempre eh avendo attenzione a quelli che possono essere delle piccole eh segnali che magari dietro un muro comunque un po' nascosto nella vegetazione ci possono far riconoscere magari anche all'interno di un ristorante come accade ci possono far riconoscere dei eh dei colombari piuttosto che dei masolei o dei o degli edifici tombali è questo quello che troviamo intorno a a alla piantica perché diciamo non ci possiamo aspettare diversamente proprio perché abbiamo detto eh c'era la volontà da parte delle persone che eh volevano essere ricordate eh dai eh dalle persone che sarebbero venute dopo eh per quello che avevano fatto o anche per quello che non avevano fatto magari per la loro ricchezza ecco che queste tombe nascono a centinaia migliaia lungo le vie consolari e e quindi oggi sono quello che ancora possiamo trovare molte delle quali ormai completamente distrutte e quindi eh non troviamo poco troviamo poco più che un un cumulo di mattoni ma comunque la storia molto spesso poi ci riesce a dare una mano e quindi eh si riesce a ricostruire qualcosa ecco hai detto che sorgevano lungo le vie consolari come quasi la totalità della vita quotidiana dei cittadini degli abitanti perché anche tantissime cisterne troviamo sulle sulle sponde di queste vie nonché nelle zone limitrofe perché eh è chiaro che il 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 movimento muoversi all'epoca era qualcosa di difficile e le strade eh c'erano ma le strade di un certo tipo e che quindi erano lastricate che permettevano un percorso agevole non erano tantissime fra l'altro eh una cosa che non abbiamo detto appunto Lappia era una strada molto ampia in alcuni punti arrivava addirittura ad avere 14 metri di larghezza perché pensiamo che c'era una sede stradale e eh rispetto alla sede stradale c'era uno spazio altrettanto grande lateralmente su ambe due lati per le persone che andavano a piedi la maggior parte delle persone si muoveva a piedi all'epoca aveva bisogno quindi di fermarsi aveva bisogno di luoghi dove riposarsi dove magari appunto venivano realizzate cisterne o situazioni di questo tipo l'altro discorso è relativo a quelle che si chiamavano le ville rustiche le ville suburbane quindi ville di persone ricche molto spesso che avevano questi grandi possedimenti in zone che comunque erano sempre limitrofe a queste grandi vie consolari perché così raggiungerle era più semplice ed erano luoghi in qualche modo li potremmo chiamare oggi aziende agricole quindi personaggi molto ricchi molto influenti si potrebbero permettere di avere la loro produzione di prodotti di qualsiasi tipo da parte della terra che veniva portato regolarmente in città presso le loro abitazioni ed erano luoghi dove loro molto probabilmente non capitavano quasi mai non era nemmeno forse da comparare a quelle che potrebbe essere oggi la nostra casa di campagna la seconda casa nel luogo di ferie dove uno va anche il weekend erano proprio delle vere e proprie aziende agricole che servivano per sfamare ovviamente in maniera molto ricca e molto abbondante la famiglia del proprietario ecco facciamo ancora qualche passo nella nostra camminata e arriviamo a una villa una villa di un imperatore che imperatore non era poi tra l'altro di un imperatore che diciamo visse in un periodo molto particolare della storia di Roma e che si autoproclamò tale e che durò anche abbastanza poco ci furono imperatori che durano molto meno diciamo che lui rimase al suo posto dal 306 al 312 312 in cui avviene la battaglia di Pontemiglio e lui perde contro Costantino viene ucciso viene decapitato e gettato nel Tevere diciamo che Massenzio è un personaggio che comunque in qualche modo viene fortemente ricordato perché è l'ultimo imperatore pagano e poi appunto con Costantino c'è la grande svolta e invece si punta a quel punto verso il cristianesimo esattamente allora noi ci prepariamo ad entrare all'interno della villa di Massenzio ma voi state lì perché torniamo tra pochissimo Siamo alle porte della villa di Massenzio ci prepariamo ad entrare e che cos'è la prima cosa che vediamo Adriano? Percorrendo la strada sulla sinistra a un livello più basso dell'Appia vediamo un casale un casale settecentesco dei Torloni che erano dei proprietari di grandi appezzamenti di terra nella zona in quel periodo e dietro a questo casale in qualche modo un po' nascosto dal casale c'è un mausoleo rotondo che è la tomba di Romolo chi era Romolo? Era il figlio dell'imperatore che muore in età giovanissima fra i sette e i nove anni e che qui viene sepolto con tutti gli onori perché ovviamente deve essere stato per il padre una grave perdita due osservazioni a proposito una è relativa al fatto che la localizzazione l'ubicazione della tomba di Romolo ci fa capire come la via appia fosse a un livello più basso originariamente e quindi quella che vediamo oggi è sicuramente rialzata rispetto a quella romana l'altra cosa è che e questa è una cosa molto particolare intorno alla tomba c'è un quadriportico che crea come una zona di rispetto per la tomba ma la cosa particolare di questo quadriportico è che rispetta un sepolcro precedente questo sepolcro non viene distrutto viene lasciato e addirittura le mura altissime perché saranno alte almeno probabilmente 10 metri del quadriportico si interrompono appoggiandosi su questo sepolcro e riprendendo subito dopo la cosa particolare è che è un sepolcro che è come dire attribuito alla famiglia dei servili ma che non era una famiglia particolarmente nobile o che dovesse avere questo particolare riguardo da parte di un imperatore la cosa strana è che appunto non fu raso al suolo come accadde per molti altri edifici sepolcari anche e non ultimo il sepolcro degli scipioni che abbiamo visto anche precedentemente nella puntata precedente che invece fu quasi completamente distrutto da strutture che poi si installarono al di sopra in questo caso invece ci fu un rispetto di questo edificio sepolcrale la villa appunto non è solamente la tomba ma c'è questo grande edificio che è il circo di Massenzio e poi appunto la villa privata dell'imperatore la cosa particolare del circo è che è un circo con tutti i crismi nel senso non è in miniatura era lungo 520 metri largo 92 aveva sul lato di testa da dove partivano appunto per le corse i cavalli aveva due torri semicilindriche dove c'erano appunto 12 carceres così chiamati dove partivano i carri per le corse la cosa particolare è che un po' come oggi accade per la corsa dei 200 metri dove si parte in curva tutti sfalsati perché ovviamente chi è nella parte interna è più avvantaggiato e quindi parte più indietro perché poi sul man mano che si percorre la curva si mette in pari con gli altri la stessa cosa succedeva all'epoca cioè questi carceres questi punti di partenza erano messi leggermente più storti per avvantaggiare chi partiva più lontano perché noi immaginiamo che il circo aveva questa spina al centro e tutti devono andare in senso anti-orario devono correre in senso anti-orario quindi verso destra e chiaramente chi partiva completamente spostato a sinistra era svantaggiato ecco che vengono piegati in modo tale che tutti più o meno partano a una stessa distanza e non ci sia qualcuno più avvantaggiato dell'altro senti ma sappiamo che le gradinate del circo potevano ospitare più di 10.000 persone sì era un circo in tutto e per tutto immaginate quindi un qualcosa che non è nemmeno confrontabile con quella che può essere la ricchezza e l'opulenza forse anche del più ricco emiro arabo era una situazione immaginate costruirsi ecco un circo privato da 10.000 persone esatto infatti stiamo parlando di un circo privato questa è una cosa molto molto particolare che si lega poi alla personalità di Massenzio e l'altra cosa è che probabilmente proprio per la fine terribile che lui fece nella battaglia di Ponte Emilio tra l'altro una scelta strana perché lui non decise di rimanere all'interno delle mura aureliane che lui aveva fatto rinforzare ma decise invece di uscire andare incontro a Costantino e quindi affrontarlo in battaglia in campo aperto senza nessun vantaggio e lui probabilmente non usò mai questo circo e forse non usò mai nemmeno la villa o comunque la villa fu usata solamente per brevi periodi infatti il nucleo centrale perché quello di cui abbiamo parlato finora il circo piuttosto che la tomba sono degli accessori ma il nucleo centrale è la villa la villa ad oggi purtroppo è quasi del tutto abbandonata in parte la sovrintendenza di Roma Capitale sta cercando di recuperarla noi stiamo dando anche il nostro piccolo contributo alla ricerca perché stiamo operando sia all'interno del Masola di Romolo della tomba di Romolo sia anche all'interno della villa una zona è stata recuperata si spera che a breve si riesca ad aprire al pubblico anche se a piccoli gruppi ed è sicuramente un luogo particolare soprattutto per la prospettiva completamente diversa che sia della tomba di Cecilia Metella una cosa particolare era che chiaramente e non avrebbe potuto far diversamente il palazzo la villa tocca con un'estremità il circo perché? perché quello era il punto di accesso diretto dell'imperatore alla tribuna imperiale e chiaramente l'imperatore avrebbe così potuto arrivare direttamente al circo senza nemmeno uscire dalla sua proprietà chiaro beh una cosa interessante questa senti allora noi passiamo adesso oltre rispetto alla villa di Massenzio entriamo all'interno di un altro sito molto interessante sì a questo punto notiamo che la via Appia si sta pian piano alzando sta pian piano andando in salita e sulla sinistra troviamo la tomba di Cecilia Metella la zona cosiddetta di Capodibove ha un'origine anche questa filologica assolutamente sì ci regali sempre queste perle infatti la tomba è composta da un dado che non è molto alto che ormai ha praticamente è solamente un nucleo di cementizio con i blocchi che lo collegavano al rivestimento scomparso esterno in travertino e poi da lì parte il corpo rotondo del monumento di 30 metri di diametro con un rivestimento in travertino e sopra c'è un freggio marmoreo con dei festoni che sono appesi a delle teste di buoi dei bucrani quindi alle corna di queste teste ci sono questi festoni e quindi è questa decorazione che si ripete ecco che nella diciamo nella credenza popolare nelle persone che frequentavano quel luogo quella zona divenne capo di buove perché quelli lì erano appunto delle teste di buoi chiaro anche questo è molto molto particolare senti ma è vero che la tomba di Cecilia Metella ha corso il rischio di essere distrutta si ha corso il rischio di essere distrutta perché a un certo punto delle persone che non facevano altro che fare il riutilizzo di materiali scrissero proprio erano dei fratelli scrissero a sua santità all'epoca perché ovviamente il periodo è quello in cui c'erano i papi e siccome loro erano in effetti padrone del casale di capo di buove quindi di quell'area loro scrissero dice ma noi abbiamo questa sepoltura o un torrione e ci tornerebbe molto comodo in effetti poterlo spogliare ma fra l'altro dicevano anche qui c'è appunto posso leggere anche quello che scrivevano in un italiano anche divertente e dicevano supplicano umilmente vostra signoria illustrissima si degni di farle grazia con sua santità quindi mettono di mezzo anche il papa e gli concedino licenza a ciò i signori conservatori che erano diciamo la parte non religiosa che governava Roma non se li oppongano non si oppongano a questa cosa con dire di qualcosa sulle antiquità e dice non devono farlo non devono in effetti dire nulla su questa antiquità perché intanto il posto è fuori Roma non è un luogo pubblico perché è privato è nostro fra l'altro ce ne sono tante altre che sono già state spogliate una per la strada di Tivoli un'altra da un'altra parte dice quindi tutto sconsiderato si potrebbe tranquillamente fare dice quindi se voi lo accettate e se crederanno anche che il popolo romano appunto i conservatori possano accettare anche loro riceveranno per grazia speciale di nostro signore e continuo pregheranno il Dio per la conservazione sua insomma gli diceva poi se ci dai il benestare noi ti pregheremo sempre e ti renderemo tanto grazie e la risposta appunto di sua eccellenza fu dice nostro signore appunto quindi forse anche il papa direttamente concede la grazia purché il popolo romano se ne contenti e per fortuna il sentimento dei romani fu un'anime e la camera capitolina invece sospese il beneplacido e quindi rimase al suo posto rimane ancora lì ma chi era Cecilia Metella? Cecilia Metella era la figlia di Metello Cretico Cretico perché banalmente perché aveva conquistato Creta quindi era un titolo che aveva conquistato sul campo ma la tomba non celebra la importanza della ragazza di appunto Cecilia Metella quanto della famiglia e quindi ci sono anche una serie di freggi che mostrano scene di guerra che accompagnano appunto l'epigrafe da cui noi sappiamo in effetti a chi era stata dedicata e chi era la famiglia il tutto risale al periodo augusteo quindi all'inizio dell'impero e quindi intorno fra il 25 e il 10 avanti Cristo e la cosa particolare all'interno la sepoltura era con un urna e ceneri la cosa particolare è che il sepolcro era coperto da un cono di terra molto simile a quello di Augusto quindi diciamo a Castel Sant'Angelo e addirittura questa situazione rimase fino all'undicesimo secolo quando a un certo punto i conti di Tuscolo la inserirono all'interno di un borgo fortificato e questo fu probabilmente anche il motivo per cui nei secoli precedenti alla lettera appunto a questa richiesta che abbiamo letto comunque l'edificio si salvò e poi all'inizio del 1300 per intercessione del Papa Bonifacio VIII che era un Caetani guarda caso passa alla famiglia Caetani caso strano insomma un caso appena appena di leggero nepotismo e quindi si giunge al rinascimento e mentre tutti gli altri mausolei venivano regolarmente spogliati di rivestimenti in travertino di marmo di tutto invece Cecilia Metella riesce a resistere appunto ricordiamo la lettera scritta nella fine del 500 per chiedere la sua distruzione per fortuna questa non avvenne se in effetti noi oggi guardiamo il sepolcro vediamo che non c'è solamente la tomba ma c'è anche il perimetro del palazzo dove troviamo anche gli stemmi dei Caetani sopra e anche delle deliziose bifore gotiche marmore che sono incastrate nel muro realizzato in blocchi di peperino la cosa particolare di questo castrum quindi castrum inteso nel senso di castello fortificato era che non si estendeva solo sulla sinistra dove abbiamo appunto la tomba di Cecilia Metella ma anche sulla destra quindi si proprio poneva sulla strada e la chiudeva completamente con annessa anche una piccola chiesa perché questa posizione perché era un controllo delle persone che li transitavano chiedendo anche in questo caso un dazio per il passaggio da lì poi passò a varie famiglie nobili romane quindi Savelli Colonna gli Orsini insomma passò di mano in mano come è consuetudine di molti di questi beni e si arriva poi a guardare forse l'ultimo come dire edificio sito della nostra passeggiata e cioè la chiesetta gotica ormai completamente scoperchiata di San Nicola da Bari che risale al 1300 la cosa molto particolare di questa piccola chiesa che faceva parte appunto del castrum del castello fortificato dei Catani e che ha questa architettura gotica che richiama le abberzie circensi e che non è molto propria della città di Roma e poi da qui la strada risalendo appunto le prime pendici dei Colli Albani va dritta perfettamente potete consultare qualsiasi mappa è proprio completamente dritta per più di 90 km fino a Terracina quindi vi abbiamo accompagnato lungo questa strada la regina Viarum che ci accompagnerebbe a sua volta fino alla fine dello stivale come abbiamo già detto in precedenza ma noi dobbiamo fermarci qui perché siamo anche arrivati alla fine della nostra puntata quindi Adriano come sempre ti ringrazio di essere stato nostro ospite ormai sei quasi padrone di casa sempre grazie a voi per l'ospitalità e ricordiamo che i nostri ascoltatori qualora vorressero a partecipare alle iniziative di Roma Sotterranea possono farlo attraverso il vostro sito romasotterranea.it oppure anche la pagina facebook su cui informiamo su tanti fatti archeologici che riguardano Roma conferenze e altro ricordatevi che appunto siamo all'inizio dell'anno e in qualche modo quindi ci si può iscrivere all'associazione pagando 10 euro e quindi poi si fa il miglior uso di questa di questa somma versata perché poi si ha tutto l'anno per partecipare alle numerosissime visite guidate iniziative che sono ovviamente anch'esse a pagamento ma dei costi sempre molto molto contenuti contenuti assolutamente questo è importante tra l'altro vorrei ricordare in maniera specifica anche i corsi di speleologia urbana che organizza Roma Sotterranea abbiamo un corso che è appena partito e un altro che invece si terrà ad aprile quindi ci sono ancora posti vi potete quindi iscrivere sempre andando sul sito e troverete tutte le informazioni relative molto bene oppure se volete scrivete a noi così vi facciamo da tramite quindi Radio Yes è sempre qui come sapete per leggervi e per ascoltarvi in questo caso vi salutiamo ringraziamo Adriano Morabito noi ci sentiamo lunedì alle 14.30 da Eleonora Silvio buonissimo pomeriggio ricordate che questa è Radio Yes voglio vivere così che